Saluto cordialmente i partecipanti al decimo quinto raduno della memoria e dell'impegno e sono molto vicino al dolore di tutti coloro che hanno sofferto gravi lutti a causa della mafia. È qualcosa che non dovrebbe esistere, ma purtroppo esiste. E voi vi impegnate, oltre al dolore sofferto, vi impegnate perché non esista più, perché nella società i giovani possono comprendere il valore di parole come legalità, come responsabilità e soprattutto come giustizia. La giustizia è qualcosa che riguarda tutti e che permette ad una nazione di vivere con serenità e pace. Dove non c'è giustizia, dove non c'è legalità, c'è arbitrio e c'è oppressione. Durante il mio servizio come vescovo a Milano ho avuto modo di incontrare tante volte vittime della violenza. Allora si trattava soprattutto della violenza del terrorismo, ma ogni violenza è negazione di Dio e negazione dell'uomo. E quindi dobbiamo ribellarci con tutte le forze a questa violenza, anche se è per difendersi dalla violenza. Dobbiamo arrivare a far sì che tutti quanti comprendano che la giustizia e anche al limite la capacità di comprendere e di perdonare è qualcosa che riassume e sintetizza lo sforzo di giustizia. Quindi vi ringrazio, ringrazio la vostra associazione per quanto fa per questa lotta contro la mafia e mi auguro che possa far maturare nel cuore dei giovani una versione innata verso queste cose. Noi siamo in un momento non facile e dobbiamo quindi legarci ai valori più profondi. E questo lo aspettiamo da voi. Mi piacerebbe essere presente in mezzo a voi quest'oggi, ma la mia salute me lo impedisce. In ogni caso vi ricordo molto nella preghiera e conto sul vostro impegno.